Un macabro ritrovamento che nel pieno della campagna elettorale rischiava di avvelenare il clima e invece in poche ore gli accertamenti dei carabinieri attivati da una denuncia di parte hanno restituito serenità anche alla competizione elettorale. Il ritrovamento di due ocche senza vita aveva indotto il sindaco sciente Maria Antonietta Belli a sporgere denuncia contro i gnoti presso i militari della locale stazione. La figlia di Belli è candidata sindaco in questa tornata delle amministrative nella quale prova a raccogliere il testimone della madre dopo due mandati. Dall'altra parte candidato alla carica di sindaco è l'imprenditore Angelo Antonio D'Agostino. Ieri sera la svolta sul caso delle ocche con l'intervento dei veterinari del servizio pubblico chiamati dai carabinieri a svelare l'accaduto. Le due ocche che la dottoressa aveva nel giardino di casa erano state azzannate al collo a darne evidenza i morsi di animali randaggi con ogni probabilità cani. Un'oca è stata ritrovata dinanzi l'abitazione, l'altra era stata trascinata dall'animale famelico a poca distanza, spiegata così anche la scia di sangue. Le indagini hanno restituito serenità in vista della competizione elettorale del 3-4 ottobre quando saranno i cittadini elettori, dunque gli esseri umani, non gli animali, a diventare protagonisti. Grazie a tutti.